Il simbolico forte è nel momento in cui finalmente torniamo a celebrare la nostra rivolenza più dolorosa in presenza in cui torniamo ad illuminare le strade cittadine con le fiaccole che ricordano le 109 piccole del sismo del 2009. Questo fiore che è un simbolo del nostro territorio, il simbolo della fatica della nostra gente ma è anche il simbolo della rinascita, della natura che rigenera, lo diamo idealmente a tutti i cittadini aquilani e del cratere lo distribuiremo in maniera capillare, chiediamo a tutti di indossarlo in quella settimana per ricordare non soltanto le vittime del sismo ma anche a tutti coloro che ci hanno lasciato a causa della pandemia e a coloro che cantano la vita in queste ore a causa di conflitti che sono in giro per il mondo abbiamo preso ad esempio quello a noi qui vicino, quello seguito all'aggressione dell'Ucraina per cui chiederemo alla delegazione, al rappresentante della delegazione ucraina di accendere il bracere della memoria nella notte tra il 5 e il 6 di aprile.